Nulla o quasi è cambiato nella viabilità provinciale rispetto all'inizio del 2016, anzi se è possibile le ultime perturbazioni piovose che hanno accompagnato per mano l'ingresso della primavera sono state un'altra mazzata per le già precarie condizioni di molte strade interne e montane. Buona parte del Molise centrale è sotto scacco, da Palata a Castelmauro, da Monte Falcone ad Acquaviva, da Trivento a Fossalto, da Civita a Campomarano a Monte Cilfone. C'è un diffuso senso di impotenza tra gli automobilisti di fronte alle difficoltà economiche delle due amministrazioni provinciali che impediscono di mettere in sicurezza il territorio e garantire comunicazioni viarie degne di un Paese civile. Gli interventi tampone sulle strade sono palliativi che non risolvono le criticità di fondo. Le risorse finanziarie disponibili sono appena il 10% di quelle necessarie per interventi risolutivi. Solo entro la fine di giugno saranno appaltati aperti i cantieri per alcuni interventi a servizio della rete viaria tra l'interno e la costa adriatica. Il Molise centrale presenta una fragilità molto pesante. Questo richiede una maggiore attenzione da parte della classe politica che non deve essere scambiata per privilegio a danno di altre aree. Le piccole comunità di montagna non possono essere abbandonate dalle istituzioni locali e regionali. Sindaci e mondo della Chiesa tornano a chiedere alla politica di sostenere le realtà più piccole e marginate. Anziani, studenti e lavoratori pendolari hanno una dignità che va difesa. Occorre una visione strategica sul futuro delle periferie, un atteggiamento non rassegnato né remissivo.